Il Museo del Design sappiamo che è una tradizione a questo punto della triennale di Milano. Questa mostra che inaugureremo adesso ad aprile in occasione del Salone Immobile sarà la prima parte, il primo germe di un nuovo, futuro, molto più grande museo del design italiano. E quindi questa è la prima idea di cui forse vale la pena parlare, dell'idea del design italiano, non tanto come identità nazionale, come tema proprio di nazionalità, quanto tema di quasi filosofia, attitudine verso il design. Questo museo, questa mostra cercherà di catturare quello che c'è stato di così bello e di così importante nel design italiano attraverso un certo periodo temporale. Quindi nasce proprio dalla volontà di documentare quello che effettivamente attraverso un periodo di 60, 70, 80 anni è successo qui sul territorio e che ha reso effettivamente Milano capitale del design a livello mondiale. Allora, in questa mostra vedremo una selezione di oggetti che in qualche maniera noi riteniamo siano quelli che comunicano meglio la particolarità del design italiano. Sono tutti oggetti scelti dalla collezione permanente della triennale di Milano. Saranno in totale nell'ordine di 200, poi questo è un numero che crescerà. Comunque ci sarà una sorta di rotazione, ci saranno anche nuove aggiunte in futuro. Ovviamente questa è una collezione, l'inizio di una collezione che andrà ad espandersi nei prossimi anni. E quindi questo che vedremo è una scelta che in qualche maniera racconta orizzontalmente quello che è la straordinaria natura della creatività, non soltanto a livello dei designer ma anche delle grandi aziende, anche delle manualità artigianali. Insomma tutte quelle straordinarie competenze che si sono sincretizzate in qualche maniera qua e che hanno prodotto quello che oggi è conosciuto davvero in tutto il mondo come design italiano e che credo sia anche uno dei motivi per cui Milano sta anche crescendo come destinazione di visita, di turistica. C'è molto desiderio anche di conoscere meglio questa straordinaria storia. La triennale è uno dei primi, forse il primo luogo dedicato in qualche maniera al racconto, alla narrazione del design industriale come tema. Credo che debba farlo in due modi. Uno attraverso una serie di mostre agili che si susseguono, che raccontano episodi particolari. Però c'è anche una grande richiesta, dato il ruolo particolare della città di Milano, anche di raccontare in qualche maniera anche gli aspetti che forse per noi sono, chi sta qui a Milano è forse un pochino più conosciuto, un po' più ovvio, ma quelle che sono proprio le fondamenta di una grande sensibilità verso il design, che è stata articolata attraverso il lavoro dei maestri, che sono forse le cose un po' più conosciute, ma che poi si sono anche disseminate, che hanno anche un po' pervaso la cultura italiana in generale. Penso che molti degli oggetti che vedremo in questa mostra, in questo museo, la loro bellezza sta proprio nel fatto che non erano cose inaccessibili o inarrivabili, erano cose che molti dei visitatori conosceranno come parte della propria storia, cose in cui sono cresciute. Quindi credo che il museo debba avere questo duplice ruolo, un po' di analisi, di esplorazione, di tematiche molto approfondite e particolari, ma dall'altra parte anche saper narrare una storia lunga che si protrae attraverso un lungo periodo e deve farlo anche in maniera un pochino tridimensionale, per così dire, non soltanto far vedere l'oggetto, ma cercare anche di immergerlo nel contesto culturale da cui effettivamente è nato. Credo che in questo momento uno dei fenomeni più interessanti è che c'è un nuovo apprezzamento della qualità. Si spera che stiamo andando oltre la cultura dell'usegetta, del one-off, one-use dei materiali e che quindi ci sia un nuovo apprezzamento della qualità. Penso che molte delle cose che vedremo sono anche in qualche maniera l'espressione di un grande culto della qualità, del valore della progettazione proprio portato al suo estremo, cose che si acquistano forse una volta e quindi per tutta la vita. Spero che il museo possa avere questo ruolo anche di riportare l'attenzione al valore della progettualità proprio come metodo anche di estensione della vita degli oggetti, andare oltre il concetto dell'obsolescenza e tornare proprio all'idea che noi gli oggetti che scegliamo dobbiamo portarceli indietro per lungo tempo. Quello che noi abbiamo qui è il primo capitolo di una storia che sarà una storia lunga e che grazie all'impegno istituzionale che è stato in questi giorni dichiarato da molti dei nostri partner istituzionali ma soprattutto dal ministro Bonisoli, rappresentante dello Stato, l'impegno è quello di portare a Milano, portare qui in triennale un grande ampliamento degli spazi della triennale capace di proporre un museo del design davvero degno della grande predominanza che Milano ha avuto nella storia del design. Quindi sì, credo che questo sia l'inizio di una storia in cui la triennale potrà finalmente diventare anche in termini di esposizione permanente, di collezione, di archivi, il museo del design più importante del mondo.